Benvenuto su Febbre da Gossip, dove ti portiamo le ultime notizie in tempo reale. Assicurati di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per ricevere gli aggiornamenti più freschi. Secondo alcune fonti online, tra cui webkpd.org, Enzo Iacchetti è cresciuto a Luino dopo aver lasciato il suo impiego presso l'Agenzia di Viaggi Globus di Lugano nel 1978. Ha iniziato la sua carriera presso Radio Tresa, una piccola stazione radiolibera situata all'Aveno, assumendo la responsabilità dell'intera programmazione. Questo includeva la gestione del radiogiornale, programmi di intrattenimento per casalinghe e bambini, contributi politici e assistenza per i pensionati. Durante il suo percorso, ha fatto la gavetta come intrattenitore, esibendosi in battesimi e matrimoni, nonché nelle pizzerie in occasione di festeggiamenti. In occasione del suo settantesimo compleanno, Enzo Iacchetti si è raccontato in una dettagliata intervista, condividendo i momenti più significativi della sua vita. Fin dalla giovinezza, ha iniziato a lavorare per un'Agenzia di Viaggi, un impiego considerato sicuro, ma ha abbandonato improvvisamente questa carriera per perseguire i suoi sogni nel mondo dello spettacolo. Subito dopo, si è iscritto all'Università del Derby. Un percorso formativo che ha avuto un impatto significativo sulla sua relazione con il pubblico. Un aneddoto della sua infanzia ha svolto un ruolo cruciale nel determinare la sua vocazione comica. Durante quel periodo, un regista del suo paese stava preparando uno spettacolo e ha chiesto al padre di Enzo se poteva coinvolgerlo in una parte in cui doveva interpretare un personaggio muto. Il consenso fu dato, e così Enzo si ritrovò improvvisamente sul palcoscenico. Non riusciva a stare in silenzio, e questo momento ha rappresentato un'illuminazione nella sua vita. Non aveva mai avuto una conversazione significativa con suo padre e raramente lo aveva visitato. Aveva allora 21 anni. La morte prematura del padre, avvenuta a soli 57 anni, lo ha colpito profondamente, portando con sé un senso di colpa. Questo tragico evento ha impedito loro di riconciliarsi. E Enzo Iacchetti porta ancora oggi questo peso emotivo. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace, di iscriverti al canale e condividere sui tuoi social media preferiti. Grazie.